Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori pompe sommerse. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la DAV Nova 300M ASV. La pompa sommergibile DAV è azionata da un motore elettrico monofase da 0,22 KW, equivalente a 0,3 CV, ed è anche un modello specifico progettato specificamente per il drenaggio dei tubi acqua limpida. A differenza dei sottomarini esaminati sopra. Di conseguenza, questo è particolarmente ideale per il giardinaggio e lobby, per attirare acqua da fiumi, pozzi o serbatoi, per svuotare piscine o per drenare tubi scantinati. Al numero 4, abbiamo Seamal pompa. Se ti stati interrogando su dove acquistare una pompa per il tuo nuovo serbatoio di pesce, possibilmente a prezzi bassi, dopodiché devi dare un'occhiata a quella testa alta 12V generata dal marchio Seamal. Nonostante la sua piccola dimensione. È eccezionalmente affidabile e puoi sollevare acqua di circa 5 metri con una velocità di circolazione di circa 800 litri all'ora, è alimentato con una tensione di 12V ed è dotato di un albero ceramico resistente all'abrasione. Al terzo posto, abbiamo la pompa sommergibile. Anche la pompa sommergibile Pedrollo è un prodotto esperto, anche se il marchio è molto meno degno della Loara, così come in effetti il costo di questo è leggermente superiore alla versione Domo. Rispetto a quello dato un'occhiata a sopra, anche le prestazioni offerte sono un po' migliori. Il Pedrollo, infatti, può trattare l'acqua con un livello di temperatura fino a 40 e con un prezzo di flusso di circa 39 metri cubi all'ora. Al numero 2, abbiamo il Loara Domo sommergibili. La 10VX-B è solo una delle pompe completamente sommergibili più efficaci del 2021 ed è anche tra i modelli più richiesti tra quelli venduti online. Appartiene alla raccolta Domo di pompe elettriche per acque reflue generate dal business Loara. Uno dei marchi leader in questo settore. Si tratta di una versione Power da 0,75 KW con il corpo realizzato completamente in lega di acciaio al carburo di silicio. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo i Lainel GCD P1020. Coloro che sono alla ricerca di un articolo ragionevolmente a basso costo per il pompaggio dell'acqua scura riuscirebbero sicuramente a pensare alla pompa GCD P1020N, prodotta dalla nota azienda tedesca EINEL. La pompa sommergibile EINEL, infatti, è un design caratterizzato da un piccolo costo oltre che da una buona efficienza, ha una potenza di 1000 W e anche un prezzo di circolazione di 18000 litri di acqua all'ora. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.